Comunali di Sernia, no ad annunci roboanti, ma azioni concrete per il territorio ispirate dall'ascolto della gente che sto incontrando nel corso del mio tour. È il mantra di Cosmo Tedeschi per il candidato sindaco che nei mesi scorsi aveva auspicato la coesione del centrodestra e che invece può contare sull'appoggio tra virgolette solo di Fratelli d'Italia, unitamente ad alcune liste civiche, va bene così, anzi si dice certo della vittoria. Dopo aver incassato l'endorsement attraverso il web di Giorgia Meloni, Tedeschi lancia una stoccata ai partiti delle altre coalizioni che stanno portando ai Sernia alcuni big della politica. Queste forze politiche, pur stando al governo ora o in passato, non hanno fatto nulla per i Sernia. Siamo molto contenti e siamo anche convinti di avere grandi risultati. Io ho visto nei giorni passati che gli altri due candidati hanno bisogno forse della sponsorizzazione dei loro politici nazionali, ma lo assicuriamo, dobbiamo dire la verità ai cittadini di Sernia. Queste persone che sono venute a Sernia non hanno dato un euro alla città e loro sono stati responsabili dei governi. La Lega e Forza Italia stanno al governo, zero euro a Sernia. Il PD e 5 Stelle, zero euro a Sernia, sono tre anni che stanno al governo. Allora dico, le chiacchiere non vanno bene, occorrono i fatti. Voglio fare l'esempio, 12 milioni d'euro per le aree per i riferia, per le borgate e per la città. Il governo, questi che sono venuti a Sernia ce li hanno tolti 12 milioni. Quindi voglio dire, è meglio che non vengano a Sernia ma ci portano i soldi. Invece loro vengono e prendono soltanto, dicono chiacchiere perché i risultati, i fatti concreti non li fanno. Grazie a Giorgia Meloni perché Giorgia Meloni è un leader nazionale ed è il leader del primo partito nazionale. Giorgia Meloni sta facendo molto bene e diventerà presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi noi siamo molto contenti, andiamo avanti così. Poi stiamo girando la città, tutte le zone della città. Questa è la cosa importante. Abbiamo detto che lo faremo sia adesso ma anche una volta che siamo stati eletti. Quindi gireremo la città pezzo per pezzo, tutto il comune di Sernia e abbiamo visto che ci sono tante criticità, anche partendo dai piccoli problemi tipo dissesti delle strade, le buche nelle strade, i cimiteri che sono indecorosi, quindi devono avere vergogna coloro che li hanno amministrati perché non è corretto trattare così i cari di tante persone. E altre cose, anche altre piccole cose tipo le velocità che ci hanno gli automobilisti sulle strade per esempio in Contrata Castagna, passano a 80 all'ora con il rischio dei bambini e ammazzano addirittura gli animali domestici. Oltre per esempio sul tratto di Fragnete, lo stesso tratto davanti al bar di Fragnete, le macchine viaggiano a 100 orari. Allora dico queste cose semplici da risolvere, perché non le hanno affrontate. Sono piccoli problemi e vanno risolti.